I primi lion che io sto andando a spawnare sono quelli normali potrebbero sembrare un po' brutarelli devo dire la verità non sono venuti proprio bene perché hanno quegli occhi un pochino strani color cetriolo che io effettivamente non ho ed è anche venuto a piovere perché anche al cielo non piacciono Anna il mio super lion è campione di sollevamento pesi è capace di sollevare un intero mondo di minecraft con un solo dito anche se le dita non ce le hanno Anna saranno i fatti a parlare e quando i nostri eserciti si scontreranno si vedrà quale sarà veramente il più forte i lions o gli spinans Anna guardate dalle alture alle piramidi dall'egitto a qualsiasi regione che non me ne viene in mente neanche una loro conquisteranno il mondo per il loro signore il mega lion che c'è là dietro Anna qui c'è questa sottospecie di labirinto che probabilmente incastrerà solo i miei croni esatto perché non è venuto tanto bene poi questi dovrebbero spingere via i tuoi cloni questi funzionare funzionano qui ci sono degli spunzoni ok 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 vabbè diciamo che sei stata abbastanza semplice fuoco 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 ok 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 è un po' anche disposto sei stata disordinata con le tue trappole io te lo dico però è anche vero che non potevamo esagerare troppo perché altrimenti poi non passavano a prescindere Anna più o meno è la stessa cosa ho fatto anch'io delle puntonate qua altre puntonate un po' di fuoco che prima avevo messo girato dalla parte sbagliata ma questi sono dettagli Anna sono partiti sono partiti mi sa che sono partiti non ne sono sicuro i miei stanno andando i miei stanno andando i miei ma la tua spina è in mezzo al mio gruppo cosa sta succedendo che ti falli non lo so Anna c'è uno dei nani coraggiosissimo che sta picchiando la tua gigante spina e la sta tenendo a bada devo dire anche la verità bravo forzuto georgino Anna ti prego vai vai Anna no 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 non vale dai siamo seri tu sei la mia preferita ma io te l'ammazzo dai te ne è rimasta solo una solo una non ci posso credere è stata la sfida più all'ultimo pelo che io abbia mai visto e l'hai vinta tu cioè io non sono più bravo ragazzi io mi sento deluso da me stesso il mio esercito sembrava fortissimo e ha perduto non ci posso credere sono arrabbiatissimo sono furioso non ci posso credere